La sostenibilità è sicuramente uno dei temi centrali per l'inglesina ed è intesa non tanto, comunque non solo come risposta ai nuovi trend del mercato, ma come a un modo più consapevole e responsabile di fare azienda. Ovviamente questa attenzione all'ambiente si concretizza innanzitutto in prodotti sempre più ecosostenibili, ad esempio le nuove generazioni dei nostri sistemi modulari hanno un impatto ambientale che è del 30% in meno rispetto ai modelli delle generazioni precedenti, però è un'attenzione che poi ha anche un respiro più ampio rispetto al prodotto singolo in quanto guarda all'intero ciclo di vita del prodotto, alla sua progettazione, ai suoi processi produttivi, alle sue logiche distributive e infine anche alle logiche di smaltimento del prodotto stesso. Ed è importante da questo punto di vista per noi, ad esempio, sottolineare che proprio nelle ultime settimane abbiamo ottenuto la certificazione ambientale ISO 14000 proprio a testimonianza di una forte responsabilità ambientale che l'azienda sta avendo nel suo modo di fare mercato. Come la sostenibilità, anche il tema dell'inclusività e della parità di genere è uno dei valori fondanti di Inglisina e proprio in tal senso recentemente, ad esempio con le parti sociali, stiamo cercando di riscrivere un codice etico capace di valorizzare proprio l'identità di genere da una parte ma per noi, cosa assolutamente anche importante, non tanto proteggere ma assolutamente valorizzare la maternità e la genitorialità dei nostri dipendenti potendo accompagnare questo meraviglioso momento della vita con una serie di interventi e di misure che possano dare sicurezza e tranquillità ai nostri dipendenti.